Ciao a tutti ragazzi e ragazze, signore e signori, banani e banane E siamo ritornati, cioè non ritornati, siamo su Slime Ranger Un gioco che gli amici, vi ricordavate nel video di Battle for Neighborville di Pianta Contro Zombie E quali volevano che portassi questo gioco e dato che me l'hanno detto L'ho portato, intanto le mie cuffie sono sparite, 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 non ci stanno più, sono morte Non vi dico che fine hanno fatto, perché le ho buttate nel vulcano Comunque ragazzi, questo è lo speciale 100 iscritti perché voi siete dei santi e vi siete iscritti al mio canale Siete tutti degli angeli, tranne gli haters Comunque non perdiamoci in griacchiere e iniziamo allora Crea un nuovo gioco Ehm C Capi Aaaaaah Vediamo l'immagine Questo qua è radiettico Ok andiamo Ora dobbiamo aspettare tre anni C'è mille anni luce della terra Bla 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 Interessante Oh ecco ecco Allora Così Opposto Perfetto Aspettate un attimo Ok Salta E salto Solo un coniglio E così si corre Sì lo so Vabbè dobbiamo catturare queste cose Si chiamano gli slime Gli slime Le cacche Le cacche rosa Oh Oh Mi schiaccio Come su Super Mario E ora Che devo fare Oh Una carota Una carota Come faccio Come Ah così così Ah gli posso dare da mangiare Devo sparare in bocca Ah Oh Una gemma Una gemma Una gemma Pink Lord Ah Posso andare a prendere i soldi Basta che sparo queste E mi danno i soldi Oh Me Oh Carota Ah no Solo questi vanno bene Dice No Ok Eh vedi che la La mia barra dei soldi È aumentata E queste sono I comandi di base Ah Ma dai Volevo che il tutorial Durasse di più Oh Che cos'è questo Una gallina Mangiate Oh Mangiate Non se la mangiano Ma 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 quello dice Che la La sua dieta È tutto Ah no È ancora piccola È vero Eh Andiamo qua Oh Sono ricco E che cosa c'è qua Ah no Non posso andare Andiamo a raccogliere Altri slime Altre cacche Cacchette rosa Oh Le mele Le mele Le mele Tantissime carote Ne voglio tanti Voglio fare uno zoo Zoo di zombie Oh Una e-mail Oh Che cosa sparo Eh Oh Questa è la mappa Che figo Ragazzi Non capisco niente Slime Pedia Perché Ogni Il mio video Deve finire male Ok Ragazzi Che c'è Che c'è Ok A posto Oh Oh Questi qua Questi qua Andiamo a prendere Questi qua Rocciosi Slime Slime di pietra Questi slime Bla 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 L'acqua Un gattino No 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 Non te lo mangiare Wiggle 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 Questi grandi Sono cattivi Ah Ciao No 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 Me ne vado Me ne vado Me ne vado Ciao Me ne vado Torno a casa Torno a casa Torno a casa C'è mancato poco Ok Ora Andiamo a rimettere Questi ciccetti Nel loro Abitato Che non sarà un abitato Ma sarà Un bo No 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 Vieni qua Pure tu Pure tu Che cos'è questo? Uh Posso mettere La miglioria Mure grandi Mure alte Mure alte Scusa Mure alte Mure alte Ah Così almeno voi non scappate Io da mangiare No Ho raccolto Ho raccolto gli slime Invece della cacca Che poi queste gemme Sarebbero la loro cacca Mangiate le carotine Oh E' questo? Ah E' bloccato Ok Direi di fare una gabbia cura Per questi qua Ta 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 Mi servono più soldi Allora Mi armo di cibo Così almeno loro fanno le cacche E le cacche Uguale Uguale soldi Però Se ci pensate Le cacche Le mettiamo nel Coso Per dare i soldi E Se le mangiano Non lo so Ho fatto una Una ipotesi Stupida Oh oh Prendiamo le mele Le mele Ecco qua Eeeh Mio dio Sta mappa è enorme Quando ci metto Che cacchio è questo? Un posto misterioso Pure la carota Oh la frutta La frutta It's a poco frutta Le carote Eh no no Ancora non sono gemmogliate Eeeh E che è quello? Ciao Perché non va la cacca? Prova a spavarti Secondo me questo Quando gli dai troppo da mangiare Schiatta Secondo me Allora andiamo a prendere Le cose da mangiare Così almeno Lo facciamo schiattare Hihihi Slime Suicidio Uno slimeicidio Oh ho sbloccato la mappa Perfetto Così almeno posso Orientarmi Uh quanta frutta Quanta frutta Prendi 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 Però il mio inventario C'ha uno spazio limitato Però lo posso potenziare L'inventario Se non ricordo male Ora andiamo a dare A sfamare Questa bestia Oh Che è successo? Wow Una chiave Wow Abbiamo preso una chiave Che aprirà Qualche cosa Poi la stava scritto Bon appétit Bon appétit Tua sorella Che ti ho fatto scoppiare Uh Una lucciola Io direi di tornare a casa Fanno pure la luce Sono come le lucciole Andiamo a casa Poi loro crescono Come fanno? Oh mai largo Ah Si possono fondere Figo Oh Ho una chiave misteriosa Poi Che aprirà Qualche passaggio segreto Premi X Vediamo Cos'è? Bea Come Brawl Stars Si chiama Che poi Questo personaggio Assomiglia A Shelly E' uguale E' uguale Rrrre 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 Io direi di fare i muri altri Altrimenti queste bestie scappano No Non posso prenderlo Luffo Voi che mangiate? Verdure Non ho capito che cosa è questo Dove posso trovare le verdure? Mi sa che sono le carote le verdure E' certo Bene Andiamo qua Non stanno Non esistono le carote Non sto trovando qui niente Carote Comunque Voi vi vedrete che sto guardando in alto Perché ho il monitor in alto Io Andiamo a fare le galline Più Le galline abbiamo preso Oh il gallo Il gallo Il gallo Ahia No 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 Ora cadevo Ora cadevo Però è pieno di pericoli Aiuta Aiuta C'è una porta Magari la possiamo sbloccare Con questa chiave misteriosa Che abbiamo raccolto Sì Sì Cosa abbiamo sbloccato Un cacchio Mouse blanket La giungla In italiano dovrebbe essere coperta muschiosa Ma vabbè Uh uh Che cos'è Che cos'è Mangiatevi questo Boom slime Slime Che cos'è Esplode E' certo che esplode Attenzione Questi slime Sono Conosciuti per esplod- E' secondo me Scoppiato Poi Alla fine Un fungo Un fungo Uh Che cos'è Uh Uh Prendiamoci questi Prendiamoci questi Cos'è Le chiacchiere Inutili No 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 Appena Poi l'ho salvato E poi ho detto No 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 Prendiamoci quelli Ora è arrivato un problema Come faccio a tornare a casa Domanda molto interessante Cacchio Uh Uh Che bello Ah forse posso fare così Uh No Aspettate Uh Uh Sì Ce l'ho fatta Uh Uh Yeah Ce l'ho fatta Che bello Uh Questo questo Che cos'è Oh è bloccato Maledizione No 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 Abbiamo perso Uno slime Ah 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 Ora possiamo ritornare In questa benedetta casa spero di sì attenzione all'acqua attenzione all'acqua attenzione all'acqua ricchiume 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 che faccio che faccio voglio prendere questo no no oh che bello oh mio dio mi imbroglio sempre oh e tu stavo per cadere nell'acqua mangia no mangia oh ma devi mangiare per qualcosa mangia la carne voi non lo potete vedere perché ci sta la mia facciona che vi copre però sono più bello io e non so la dieta che fanno loro direi di tornare a casa andiamo a casa prendi prendi corriamo corriamo wiii 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 ho sbloccato ho sbloccato pure nuove cose questo qua marrone il blu l'esplosivo che è questo poi poi questo qua questo qua che sembra essere marrone e nero e questo dorato vale tantissimo ci sta forse un po' troppa gente ehi vai qua insieme ai tuoi fratelli quella che doveva essere soltanto una raccolta di carote è diventata un'avventura sproporzionata mettiamo questi mmm c'hanno fame il problema è che non ho le carote quindi come faccio? can you tell me? ah posso pure dormire fino al mattino no pam e questo? ah la slime media madocco ho scoperto pochissime cose ci sono altre cose misteriose da trovare uuuh sto registrando da 22 minuti Comunque ragazzi Il video di oggi finisce qua Noi come sempre ci vediamo la prossima volta Non dimenticatevi iscrivetevi Poi non dimenticatevi anche di attivare Nelle notifiche E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao